... Bombola di gas esplode nel giardino di un'abitazione a Carità di Villorba. Quattro feriti portati in ospedale tra loro due vigili urbani. L'emergenza profughi per Manildo. Il collega Serena ha rotto il fronte dei sildaci, rispedendo a tre vigili migranti. Altri venti arrivati oggi. Immigrazione incontrollata, zaia, giornata di ordinaria follia, dice Renzi non inganni gli italiani. Gionato morto dopo il parto a Vittorio Veneto, otto gli iscritti dalla procura nel registro degli indagati. Un atto dovuto, dice il magistrato. Giovedì pomeriggio in Duomo, Oderso, l'addio al sedicenne morto sulla pista da motocross. Davide morto schiacciato dalla moto. E' ancora caldo torrido e le temperature continuano a salire. Torna la paura di eventi atmosferici eccezionali per l'esperto situazione da monitorare. Nella marca Giro d'Affari per il lavoro sommerso da 270 milioni a Montebelluna avviata una campagna contro gli abusivi. San Giuseppe, a un mese dall'entrata in vigore dei divieti, Cassugana annuncia tir dimezzati sulla Noalese. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. Dunque apriamo subito con la cronaca e con la paurosa esplosione che si è verificata nel pomeriggio intorno alle 16 a Villorba. A esplodere una bombola del gas, ferite quattro persone, tra cui due agenti della Polizia Municipale. Gravi danni alle strutture, i particolari nel servizio di apertura curato da Anna Maria Parisi. Abbiamo incontrato l'esplosione, però non so cosa è successo. Esplodono il gas. Sono feriti. Guarda. Paure e attimi di terrore nel pomeriggio tra le 16 e le 16.10 a Lancinigo di Villorba, in seguito all'esplosione di una bombola di gas attaccata al fornello e posizionata nel patio della villetta della famiglia Borsato, in vicolo Matteotti. Il gas è scoppiato, il gas. Nell'esplosione ferite quattro persone, tra cui due vigili della Municipale di Villorba, di 42 e 47 anni, chiamati dai vicini allertati dalle alte fiamme e sprigionatesi prima dell'esplosione. Agenti sbalzati a terra dalla deflagrazione e colpiti dalle schegge al volto, in testa, ai piedi e alle braccia, mentre gli oggetti posizionati poco prima per terra accatastati nel giardino volavano in aria con i frammenti impazziti. Tu guarda, sei messiato davanti alla parte delle femmine, sei uscita. Sono abbassato in tempo. Ferita anche la 94enne proprietaria della villetta, che al momento dell'esplosione stava riposando in camera da letto, e la figlia, 49enne, rimasta ustionata ad un braccio. Quest'ultima, con il figlio di 24 anni, si erano presi la briga di mettere in ordine la Pompeiana, quando la bombola è scoppiata. Saranno ora gli accertamenti tecnici dei pompieri a stabilire le cause. Scampato al pericolo, questo cagnolino, che è riuscito a mettersi in salvo. Danneggiata parte della facciata esterna della casa della famiglia Borsato, così come anche tre villette vicine, che hanno subito la rottura dei vetri delle finestre e danni vari causati dalle schegge volate nei giardini e negli stabili. Restiamo a Villorba per parlare invece di profughi. Ieri il caso degli stranieri abbandonati, letteralmente, in autostrada. Non è piaciuto il comportamento del sindaco Serena al suo collega di Treviso Manildo, che dice che Serena si è preso la responsabilità di rompere il fronte dei sindaci. Non disperro che troveremo modo per poterlo ricostituire. Certo, al momento si è rotto questo fronte, con la condotta di ieri si è rotto. Riunione dei sindaci, convocata per stilare un documento comune sull'emergenza profughi da inviare al governo, rinviata a data da destinarsi dopo la fuga in avanti del primo cittadino di Villorba, Marco Serena, che ha preteso di caricare su un pullman la cinquantina di stranieri fatti scendere da un camion in A27 e mandarli a Treviso. Al prefetto, aveva detto lì per lì, in realtà alla fine a prendersi la patata bollente sono stati i carabinieri e Caritas. Neppure la questura è intervenuta. È un fronte di sindaci che cercava di muoversi unito. Mi ha colpito il fatto che ci sia stato un atto che sicuramente Marco dice che è stato preordinato nei confronti della prefettura, nei confronti dello Stato, però penso che forse la modalità con la quale questa cosa è stata fatta poteva essere ben diversa. Non penso perché se io ravviso che sia un problema nel mio territorio debba spostarlo in un altro. Io sinceramente non avrei fatto così. Casugana aveva rifiutato anche la stazione e si attende per le prossime ore che venga sgomberata anche l'extreviso servizi. Ma in giornata erano in arrivo altri 20 profughi e 10-12 ne arriveranno d'ora in poi ogni giorno nella marca. La prefettura fa sapere che in assenza di un'alternativa non li sposterà dall'extreviso servizi. Manildo neanche prende in considerazione questa possibilità e tira dritto. Ho motivi seri per ritenere che penso che tra istituzioni la collaborazione si debba fondare sul rispetto dei patti che abbiamo preso. Non ci sono comunicazioni diverse quindi sono convinto che i patti verranno rispettati. Sarà la prefettura che eventualmente troverà delle soluzioni alternative. Una giornata di ordinaria follia e disorganizzazione sul fronte rovente dei profughi. A Treviso 50 clandestini arrivati a Villorba si disperdono nel territorio regionale aggiungendosi ai già 7 mila di cui non conosciamo né identità né destinazione né spesso la provenienza. Così il presidente del Veneto Luca Zaia torna a prendere posizione sul tema dell'arrivo di profughi e immigrati che sta provocando una vera e propria ribellione sui territori. Torno a richiamare Renzi ai suoi impegni che la smetta di scaricarli sul territorio come pacchi senza destinatario. Dice il presidente del Consiglio non inganni gli italiani dicendo che si tratta di profughi quando è noto che due sbarcati su tre non hanno nulla a che fare con la fame e con la disperazione della guerra ma sono semplicemente braccia che chiedono occupazione. Chiude Zaia. Continuiamo con la cronaca. Vittorio Veneto indagata un'intera equip medica dopo la morte di un neonato pochi minuti dopo il parto. Fascicolo aperto dalla procura su denuncia dei genitori. Indagati otto medici dopo la morte del piccolo Domenico, il neonato il cui curicino ha smesso di battere subito dopo il parto, mercoledì scorso all'ospedale di Vittorio Veneto. Il magistrato, Laura Reale, ha iscritto nel registro degli indagati l'intera equip che ha eseguito il parto, un atto dovuto per consentire agli interessati l'esercizio del diritto di difesa, la precisazione dalla procura. Già eseguita l'autopsia sulla salma del neonato, ora bisognerà attendere 15 giorni per conoscerne i risultati. Nel frattempo il pubblico ministero ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura e la famiglia è intenzionata a salutare il bimbo con una piccola cerimonia privata. La tragedia ha consumatisi mercoledì mattina nell'immediatezza del parto, nonostante i nove mesi di gravidanza fossero trascorsi senza alcun problema, stando alla versione dei genitori del piccolo Domenico. Arrivati in ospedale tuttavia la terribile notizia. Il cuoricino di Domenico batteva sebbene il feto risultasse in grave sofferenza, nonostante il cesareo d'urgenza il piccino è morto subito dopo. Spetta ora la magistratura a stabilire il perché. E saranno celebrati invece giovedì pomeriggio alle 17 in Duomo a Oderzo i funerali di Davide Zanutto, il sedicenne promessa del motocross, morto domenica sulla pista di Recoaro Terme nel giorno del suo compleanno. La tragedia davanti agli occhi di mamma Monica e papà Claudio che lo seguivano sempre con il camper. Il ragazzo morto schiacciato dalla sua stessa moto ha infatti riportato la frattura dell'arachide cervicale. La procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta. Giovedì saranno in tanti compagni di scuola e sportivi a volersi stringere la famiglia per salutare Davide. E ora altra cronaca e cominciamo proprio con le ore di angoscia che vive un'altra famiglia questa volta di Mansuet. Il piccolo, il loro piccolo di appena un anno e mezzo è rimasto ustionato con dell'acqua bollente. È ricoverato al centro grandi ustionati di Padova il bambino di 18 mesi di Mansuet che ieri sera intorno alle 18 è rimasto ferito rovesciandosi accidentalmente addosso una pentola di acqua bollente. L'incidente è in un appartamento di via Molin. I genitori hanno immediatamente chiamato la centrale operativa del suo M118. Sul posto è stato inviato l'elicottero che ha direttamente trasportato il piccolo a Padova dove gli sono state diagnosticate ustioni di primo e secondo grado a un braccio e al tronco. A processo perpeculato per aver stampato per sé nove fotocopie durante l'orario di lavoro. Rischia una condanna da 3 a 10 anni di reclusione un geometra ex dipendente dell'ufficio tecnico di Vedelago. Oggi il giudice ha disposto il non doversi procedere perché il reato è caduto in prescrizione. Il comune non si era nemmeno costituito parte civile nel processo. Non era stato possibile neppure quantificare l'entità del danno alle casse dell'ente. Polizia Postale di Venezia e Carabinieri di Treviso hanno arrestato un quarantenne bulgaro e un ventenne moldavo che orbitavano tra le province di Venezia e Vicenza. Autori di circa 60 colpi attraverso il cash trapping, la cosiddetta tecnica della forchetta inserita nella fessura di erogazione delle banconote, dei bancomat per bloccarla. I malviventi rimanevano poi nei paraggi attendendo che il malcapitato utente si allontanasse pensando a un guasto tecnico e permettendo loro di recuperare forcella e banconote. Decine i colpi messi a segno tra Treviso, Padova e Venezia. Nella notte Mansuè furto al bar del distributore di benzina energica. Vettrata sfondata con un'auto, rubati tabacchi e gratta ai vinci. Fondocassa e sigarette sono invece il bottino dei ladri che sempre nella notte hanno colpito la pizzeria da Gennaro di via Castellana a Treville. I malviventi sono entrati forzando una finestra della cucina. Torniamo a Treviso. Sicurezza in Riviera Santa Margherita. La prefettura ha fissato per domani mattina alle 10 il vertice in cui si parlerà anche del tema, così come richiesto dal vice sindaco Roberto Grigoletto che nei giorni scorsi aveva preso carta e penna e scritto al prefetto per chiedere la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza. Siamo stanchi delle condizioni in cui versa la zona. Aveva detto Grigoletto, la polizia locale è presente ma servono più controlli. Per questo aveva inviato una richiesta ufficiale del prefetto Maria Augusta Marrosu. Serve una sinergia tra polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, di cui quest'ora deve farsi garante, aveva concluso il vice sindaco, chiedendo inoltre rinforzi al Ministero. Veniamo al caldo torrido di queste ore, temperature destinate ad aumentare ancora di più nel fine settimana e torna naturalmente la paura di eventi atmosferici eccezionali come il tornado che ha devastato la riviera del Brenta. Non ci sono le condizioni, sottolinea l'esperto, ma con l'andare dei giorni, dice, la situazione andrà costantemente monitorata. Le temperature vanno aumentando. È una situazione che ci regana delle temperature al di sopra della norma di 3-4 gradi. Andranno ancora aumentando, però siamo ancora sotto l'azione dell'anticiclone dell'Azore, quindi un anticiclone più delicato. Non è il promontorio, l'anticiclone africano che nel passato ci ha portato aria così calda e soprattutto umida. Quindi prevarrà questa situazione, le temperature andranno aumentando, arriveremo a 35-36 gradi sempre naturalmente all'ombra e un tasso di umidità però inferiore, molto inferiore al passato, quindi un tipo di tempo sì caldo, afoso, ma non primente come nel passato. Nei giorni scorsi avevamo una temperatura molto alta dovuta all'anticiclone, al promontorio africano, ma soprattutto tasti di umidità veramente straordinari. Poi l'impulso di aria fresca ha dato vita a fenomeni intensi. Condizioni perché si verificano fenomeni così intensi ancora non ce ne sono. Certo la situazione va monitorata, siamo nel periodo in cui questi fenomeni si possono verificare, quindi con il passare il giorno, permanendo questa situazione, potremmo riandare vicino alle condizioni. Questo non vuol dire che si riverificherà questo fenomeno molto intenso, però gli elementi si vanno formando piano piano. Ora parliamo di economia. A Montebelluna le categorie economiche hanno avviato una campagna contro il lavoro nero e l'abusivismo nella marca. Un giro d'affari di 270 milioni di euro, 27 mila lavoratori in nero, numeri da capogiro e che fotografano il sommerso in un anno nella sola provincia di Treviso. Ciò che noi consigliamo con Fartigianato e le altre realtà che rappresentano gli imprenditori è quello di avvalersi di figure professionali certificate. È una tutela perché in caso di danno l'azienda è in grado di rispondere. Dall'elettricista che lavora completamente in nero, la parrucchiera ed estetista che vanno di casa in casa, l'impresa edile che impiega muratori senza contratto, gli obbisti che prendono parte regolarmente ai mercatini e ancora le lavanderie e gettoni che offrono servizi di stiro o sartoria anche se la legge non lo consente, tra gli esempi del sommerso registrati nella marca. Effettivamente l'edilizia sta andando sempre più in crisi perché il mercato si sta abbassando. Il livello dei costi effettivamente si abbassa e chi non ci sta dentro questi costi, con il lavoro dipendente magari, deve prendere delle decisioni importantissime. Contro l'abusivismo e a tutela delle imprese che operano legalmente è nato un osservatorio permanente sul fenomeno dove si chiede proprio al committente di vigilare. Noi vogliamo partire in maniera soft, quindi anche le segnalazioni che ci verranno fatte da parte di nostri associati su abusivi, su persone che fa concorrenza sleale, prima cercheremo di contattare queste persone dicendogli guarda che ci sono arrivate queste segnalazioni, vedi di o non proseguire con questa attività o metterti in regola. Protocollo di intenti che, con Fartigianato e altre associazioni di categoria, vede coinvolti 25 comuni nel territorio tra Montebelluna e Asolo. A partire anche dagli uffici tecnici dove arrivano le pratiche, dove deve sorgere un campanello d'allarme quando si trova la dicitura e la scrittura, lavori fatti in economia. Mezzi pesanti in transito sull'anno alese, praticamente dimezzati in un mese nel tratto che attraversa il quartiere trevigiano di San Giuseppe, da 5.818 alla settimana a 2.993. Risponde con i numeri il vice sindaco di Treviso Grigoletto alle critiche di chi non aveva visto migliorare ancora la situazione lungo la trafficata strada statale. Oltre il 50% dei conducenti ha rispettato il divieto, sottolinea il vice sindaco, secondo i risultati dei radar che sono stati installati dal settore mobilità nella zona, la percentuale dei camion che un tempo prendevano l'analese e attraversavano il quartiere di San Giuseppe è passata dal 5.4 al 2.7%, un dato confermato anche dall'incremento registrato invece sulla Castellana dove sono stati deviati proprio i mezzi pesanti. Ci spostiamo di poco, andiamo a quinto di Treviso perché continua la polemica tra il sindaco e il presidente della locale squadra di calcio che dal 1 agosto non avrà più il campo dove poter giocare, una situazione per la quale il sindaco si dovrebbe vergognare stato il duro commento a caldo del presidente Silvano Favarato. Ecco il campo della discordia o meglio dello scippo come lo chiama Silvano Favarato, presidente dell'Union Quinto. Società calcistica che dal 1 agosto dovrà dire addio alla gestione della struttura e probabilmente anche della possibilità di disputare gli incontri del prossimo campionato. Oltre a questo anche tutte le altre attività di vivaio che fino ad oggi venivano svolte nello storico stadio dedicato ad Antonio Righetto. Strana storia per il club rosso-blu che qualche anno fa ha sfiorato la Lega Pro, la vecchia Serie C, per poi in poco tempo precipitare in promozione ed ora per di più senza campo di calcio. Ma le regole sono regole, ricorda il sindaco di Quinto che passerà alla gestione a due società inserendo l'atletica sul calcio. Ho messo a gara un bando per la gestione degli impianti sportivi e una società che è il Treviso Academy ha avuto un punteggio sicuramente maggiore dell'Union Quinto. Quindi probabilmente chi mi accusa di vergognarmi, che non lo faccio assolutamente, forse deve fare un esame di coscienza per la gestione che ha portato fino adesso e magari per aver presentato un bando totalmente non opportuno e non completo. Ma sul futuro della squadra il sindaco alla fine tende una mano. So che ha già presentato una richiesta al Treviso Academy per poter utilizzare l'impianto per il campionato e cercheremo di darti una mano come abbiamo sempre fatto. In autunno oltre ai campionati riprenderanno anche le scuole e allora dieci istituti trevigiani si ritroveranno con un internet decisamente più efficiente. Sentiamo perché. Dieci scuole trevigiane collegate alla banda ultralarga, fibra ottica per navigare in internet a 100 mega al secondo con l'obiettivo di informatizzare l'attività amministrativa oltre che scolastica degli istituti. A beneficiarne, grazie all'accordo tra il comune di Treviso e un gestore telefonico, saranno l'istituto comprensivo Martini, il Felicent, lo Stefanini e il Coletti. Per le scuole questo significherà un risparmio concreto. Avere a disposizione dei denari da poter investire su altri progetti e che sarebbero castati a carico della scuola mi sembra una cosa buona. Quindi siamo sull'ordine dei 350, 60, 400 euro all'anno. Lo sviluppo della fibra ottica sta interessando l'intero capoluogo. Entro settembre gli edifici collegati alla banda ultralarga saranno 35.000 pari all'80% della popolazione cittadina. L'investimento complessivo è di 3 milioni e mezzo di euro. È in questo quadro che si inserisce l'opportunità concessa alle scuole. La speranza è che 10 sia solo il numero di partenza. Si è trattato di un incontro positivo, di quello che possiamo chiamare un circolo virtuoso che ha messo insieme la volontà politica dell'amministrazione, la disponibilità di un'azienda, la competenza tecnica degli uffici. Quindi io penso che sia una di quelle situazioni nelle quali veramente si tocca con mano che se si lavora tutti assieme poi si riesce ad ottenere un obiettivo. Il tornado che ha devastato la riviera del Brenta e il rischio che possano formarsene altri questa sera a Focus, ospiti del direttore Luigi Bacialli, persone colpite dal tornado, inoltre Renato Boraso, Paolino Barbiero, Deborah Varaschin, Marzia Taschetto, Francesca Materazzi. Come sempre aspettiamo i vostri sms. È davvero tutto, TG Treviso si ferma qui dalla redazione l'augurio di una buona serata. Arrivederci.